ciao a tutti i ragazzi e benvenuti a questo nuovo video iniziamo oggi con un bello scherzo telefonico grazie ad un'applicazione con una voce preimpostata che farà lo scherzo per noi la prima vittima del nostro scherzo telefonico è francesco turri e lo scherzo telefonico si chiama lei mi ruba il wifi vai con lo scherzo si buongiorno senta sono una sua vicina di casa e da un po di tempo che sta notando che il suo computer è collegato alla mia rete wifi le volevo chiedere lei mi sta rubando la rete wifi vero no ne abbiamo il nostro modem come abbiamo il problema è che non solo mi sta rubando il wifi ma per di più si sta scaricando un sacco di film e il mio internet va lentissimo potrebbe almeno scaricateli di notte i film no noi abbiamo il nostro modem paghiamo p***a di 40 euro al mese sono collegato al mio sto facendo una raccolta di film e tra tutti i condomini in modo che il condominio installi una rete wifi da condividere con tutti così ce l'avremo gratis interesserebbe partecipare questo forse sì ma io le assicuro non so non so lei deve trovato il mio numero rinnovate wifi è pronti wifi grattis ripetta con me wifi grattis wifi grattis wifi grattis